Non vuol dire che verranno dei geni qui sul podio, ma è il patrimonio genetico, quello che si trasmette dai genitori ai figli, accomunati da una passione, da un talento. E allora vengono qui anzitutto i figli, quindi Valerio, Chiara e Nicoletta. Venite! Ciao! Benvenuti! L'ho detto di tutti, ne manca uno. Chiara e Valentina, perché sono due figlie, ciao! Siamo intuito che fosse sorelle. Allora, cominciamo subito, eh? Cominciamo subito. Possono sedersi gli altri, Carmine e Valerio. Papà Valerio! Sì, ecco sì. Facciamo entrare subito? Sì. Tieni, Valerio Manaco. No, Valerio sei tu. Carmine, Carmine. Pronto? Arriva, eh? Eccolo qui. Ecco lì, benvenuto, benvenuto sotto gli occhi di Mauro Corruzzi e anche del nostro pubblico e naturalmente contribuirà alla valutazione e alla decisione che tra queste coppie andrà in finale. Allora, Carmine è un baritono professionista, cantava sui palcoscenici internazionali e suo figlio Valerio, già da piccolissimo, lo osservava. Osservava papà, imparava quello che suo papà, napoletano di nascita e baritono di professione, un attore prestato alla lirica, cantava. Quella di Carmine è una carriera ricca di successi in giro per il mondo, quasi sempre con sua moglie Paola, che è cantante anche lei, e poi con il piccolo Valerio. Nel frattempo cresceva quasi all'insaputa dei genitori, guardandoli assorbivi il loro talento, la loro passione. Una sera d'estate, durante lo spettacolo a Circeo, ci siamo anche conosciuti lì, è piccolissimo, e qualcuno ti ha notato, diciamo facciamogli fare un provino per un programma TV e ci volle poco per capire che Valerio ha la stessa stoffa del papà Carmine. Oggi è venturanni, studi canto lirico e vai ancora ad ascoltare papà a teatro. A voi, Valerio e Carmine, che geni contest Italia sì, genitori e figli. A teatro, 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 a teatro. A teatro, 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 a Funicola Funicoli, funicola Funicoli, funicola Via, via Funicoli, funicola Bravissimi, Valeria e Carmine Grazie, troppo buoni Mauro, vogliete qualcosa? E bravo E il papà Carmine, fare applausi Il papà fa sempre così Grazie Credo che c'entrerà anche la genetica Però, dato che lei ha una stazza Insomma, piuttosto considerevole Non vale più il fatto Che la risonanza Si diceva una volta che il cantante è lirico Deve avere una certa stazza No, suo figlio dimostra esattamente il contrario Assolutamente Perché è secco come una ciuma Quindi avrete gli stessi geni Ma avete la stessa passione Quella è la verità È la passione che vi accomuna Questo oggetto è un oggetto un po' particolare Mi fu regalato dal soprano Montserrat Caballier Ed era A proposito di signore A proposito di stazza Un grandissimo soprano È meravigliosa Ed è una pietra azteca che lei mi comprò proprio per l'occasione E io l'ho portata quasi sempre alle recite Anche sotto al costume di scena Lo mettevo sempre Un po' un amuleto diciamo Assolutamente Mio figlio l'ha usufruito ogni tanto Perché sì Quando faceva Ti lascio una canzone qualche volta Perché il concerto che ha fatto Ogni tanto Papà me lo presti Che sicurezza È stato un portafortuna È un portafortuna Sì assolutamente Bravissimi Bravissimi Avete inaugurato il nostro contest Che ripeto racconta il talento che si trasmette La passione che si trasmette tra genitori e figli Accomodatevi pure Adesso Nicoletta Nicoletta via Nicoletta Mazzoni Ciao ancora Ciao Con papà Giuliano Papà Giuliano Piani Giuliano Benvenuto Ciao Tu disegno l'erba Quale sarà Il talento e la passione Che si sono trasmessi Papà e figlio Intanto vi racconto Giuliano ha 54 anni È un affermato donto tecnico Che però sembra nato per fare il pittore Per questo ha trascorso da sempre Ogni singolo attimo del suo tempo libero A dipingere quadri Anche se fa lo donto tecnico Lo fa stare bene E sua figlia Nicoletta Con questi occhietti L'ha sempre guardato Ha sempre cercato di rubare con gli occhi il talento del papà Già a 8 anni Nicoletta ha dipinto il suo primo quadro Una natura morta In questo video Nicoletta racconta di come ha spinto il papà Che li aveva lasciati a riprendere i pennelli in mano dopo averli abbandonati Adesso è diventato una gara a chi è più bravo E tra loro c'è una grande condivisione E una grande passione Prego Questi quadri sono solo un ultimo ritocco giusto? Chi ci racconta? Sì certo Da completare E' bello Ti piace Mauro questo quadro? Sì sì Anche se sto guardando con la stessa attenzione cosa sta facendo Nicoletta Perché sembra che sia un'altra tecnica Non vorrei dire una stupidaggine ma Ci racconti Nicoletta? Sta col pennello trascinando un colore come se fosse in acqua Sembra? E' sott'acqua? E' sott'acqua E' una figura E' un volto sott'acqua E' proprio di una riemersione Adesso diciamo di vederla A parte che non sembrate padre e figlia ma sembrate fratelli Io non ho capito quanti anni abbia Nicoletta O tu sei il brivoto più giovane Vabbè Però in questo caso è ancora meglio Perché c'è un incrocio di una passione Che non è il mestiere del padre trasmesso alla figlia Ma è l'obbligo del papà che passa a Nicoletta Sì non è il mestiere Non parliamo di mestieri Parliamo di geni Parliamo di talento Parliamo di ex Ah vi siete scambiati? Perché? Capacissimi di fare come l'altro Ah quindi ogni tanto vi scambiate? Sì Non sempre Qualche volta E' eclettico Quindi i quadri in realtà sono fatti a quattro mani? Qualcuno 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 non tutti Perché lei è molto gelosa dei suoi Gelosa dei suoi Ma questi quadri sono anche nel suo studio di odontotecnico Li tiene lì oppure no? Qualcuno c'è Qualcuno c'è Qualcuno c'è Quelli che mi piacciono di più Poi arrivare alla trapanata Odontotecnico Questi quadri sono entrambi fatti insieme? Ogni tanto ci diamo anche consigli e una mano a vicenda Questo l'ha iniziato papà Questo qui Sì Quello è più tuo Ok Allora prego mettetevi pure sul podio Naturalmente il quadro era Adesso che è finito Avete anche un oggetto no? Che Un po' che rappresenta la vostra passione comune Sì Questo è semplicissimo Un semplice barattolo Ma era un lavoretto che Nicoletta aveva fatto all'elementari Ma non gli piaceva e lo voleva buttare Io l'ho utilizzato per i colori Solo per il liquido di pittura Quando ho cominciato a pitturare Ha cominciato a reclamarlo E mi diceva No lo prendo io Lo prendi tu Quindi questi sono anni che ce lo litighiamo io e lei È semplice È semplicissimo Sembra un oggetto stupidissimo ma Comunque Representa la vostra unione Per noi sì infatti Il sentimento che c'è anche tra voi Infatti Bello Molto bello questo Complimenti A Giuliano A Nicoletta Grazie E adesso L'ultima coppia Di editori e figli sul podio Poi stabiliremo Che tra loro meriterebbero tutti Che se non ti da dirlo Andrà alla finale Quindi Chiara Valentina Le figlie Come si chiama mamma? Ora entra la nostra ballerina preferita Nostra mamma Sì Ciao 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 Luana Allora Vi racconto un po' Luana aveva iniziato a ballare Già da bambina Quasi per gioco Imitando i genitori Imitando i genitori che ballavano Nelle feste di paese E Adesso vedremo anche alcune immagini Era proprio tuo papà Luana che ti incoraggiava Ti incoraggiava A non vergognarsi Di muovere il suo corpo Di ballare E quella magia E quella magia Trasmessa dal papà Poi è diventata qualcos'altro È diventata studio È diventata Quindi una passione È diventata anche un po' Una professione Quindi hai faticato Disempegnato Hai studiato Tutto per la danza La danza l'ha aiutata Anche a superare Un po' di timidezza Che c'era Perché ti dà anche fiducia In te stessa Il fatto di esibirsi Aiuta a rompere Le barriere Con fronte degli altri Oggi Luana 49 anni E ha trasmesso Il suo talento Alle figlie Così come ha fatto Il papà con lei Chiara e Valentina Non so chi è Chiara E chi è Valentina Valentina e Chiara Si sentono felici Di ballare Di farlo con la mamma Qui Sono qui per danzare Con lei Fateci vedere Chiara e Valentina Grazie a tutti. 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 Però mi rendo conto, i sorrisi di queste due ragazze con la mamma che ha insegnato loro a ballare, sono andate in sincrono, perfetto, quasi fossero delle professionalizze del balletto. Mi spiace per le attività, mi spiace per le attività meritevoli, applauso cumulativo per tutti, perché veramente meritavano tutti. E' un po' un'ultimatum, è un po' un'ultimatum, quello della figlia... Grazie a tutti.